Fera dell'Angelus e del Santo Rosario Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto Preghiamo in comunione con ognuno di voi E affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni Dal Santuario della Santa Casa di Loreto Preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario In comunione con coloro che pregano con noi da casa Attraverso i mezzi di comunicazione Preghiamo Maria, Madre di Gesù Per i bambini, i ragazzi e i giovani, i loro educatori Per chi accolgano e vivano con gioia il Vangelo Come la ragione della loro vita Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria Ed è la concepi, concepi per opera Dello Spirito Santo Eccomi sono la serva del Signore Si compia in me la tua parola E il Verbo si fece carne E venne ad abitare in mezzo a noi Prega per noi, Santa Madre di Dio Perché siamo resi degni Delle promesse di Cristo Preghiamo Infondi nel nostro spirito la tua grazia O Padre, tu che nell'annuncio dell'Angelo Ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio Per la sua passione e la sua croce Guida ci alla gloria della risurrezione Per Cristo nostro Signore Meditiamo i misteri della gioia Primo mistero L'annuncio dell'Angelo a Maria Pate nostro equies in cielis Santificetur Nomen Tum Adveniat Regnum Tum Fiat Volunta Sua Sicute in cielo et in terra Pane nostro Quotidianum da nobis odie Ed imite nobis debita nostra Sicuntet nos demitimus debitoribus nostri Et ne nos inducati in tentazione Sed libera nostra malo Amen Maria, Regina della pace Prega per noi Prega per noi Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus Benedictus fructus ventris Tui Iesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in oa mortis nostri Amen Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus Benedictus fructus ventris Tui Iesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in oa mortis nostri Amen Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus Benedictus fructus ventris Tui Iesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in oa mortis nostri Amen Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus Benedictus fructus ventris Tui Iesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in oa mortis nostri Amen Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inua mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli, nei secoli, Amen. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dice oggi il nostro pane quotidiano, dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonaci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Dios te salve, Maria, llenares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. In Indiano, Kannada. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Namo Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Namo Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Namo Maria, Prasada Purne, Prabhu, Nimodane Iddare, Striele Niu Daneru, Matunimodarada Falavada Esu Daneru. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, Nei secoli, nei secoli, Ave, l'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esoli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore e pietà, Signore e pietà, Signore e pietà, Signore e pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre Degna d'Amore, prega per noi, Madre Ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia. Tempo dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Prega per noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Facciamo insieme la priera alla pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama, aurora della salvezza. Madre, apri spirai di luce nella notte dei conflitti. Tu, in dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli seduti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu che a ciascuno sei vicino, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Madre, regina della pace, riversa nei cuori l'amonia di Dio. Amén. Sotto la Tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi, che siamo nella prova. Ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Per tutti i fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amén. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Su tutti voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre persone care, scenda alla benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. In questo Tempio Santo, a Te Madre noi veniamo, pien di fede e di speranza, come l'Angelo ti salutiamo. Ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave. Ave Maria, ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria, ave Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.